E' quella che l'ha invitata, dietro a te, la ninfomane. La ninfomane? Non faggirare, ori sta qua. Come? Ma che ninfomane è? La ninfomane, la vanta, non la conosci? Vanta? La ninfomane, quella che fa l'amore con tutti. Con tutti? Porca! Come con tutti? Con tutti proprio, anche con una persona qualsiasi, qualsiasi? Certo. Porca miseria. Non faggirare. E che bisogna fare? E niente, un sorrisetto, l'occhiolino. Quella ha sempre voglia di fare l'amore. Prima fa un po' la signora, la sostenuta, e dopo... E che qual è? Lì, dietro a te, seduta vicino al mazzo di rose rosse. Vicino al mazzo di rose rosse? Qui, dietro a me, c'è le rose rosse, c'è la ninfomane, lì, pronta. Allora, sì. Ma non penserai mica... Con quella? Ma che scherzi? Dai, per me la racconto... Eh, la racconto moltissimo. Eh, senti, io devo andare, eh. Hai scaricato i tuoi manichini? Sì, no, c'erano nel furgoncino c'è un garage, perché lì stavo andando a prendere quello con la segha elettrica, che lo volevo mettere qua. E quello lì col tagliebbo, guarda, te lo faccio vedere, lo volevo mettere proprio in questa polizia. Cucucucu! Ciao! Ciao, ciao, bellissimo! Ciao! 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 Un po' più alto così, e l'altro più basso col faro, e... Mi fido di te, la cosa? Però sbring, poi mi riporti in magazzino. Sì, sì, ciao, vai, vai, ciao, ma scusi, ciao, vai, vai, ciao, ciao, grazie, vai, ciao. Grazie. Grazie. Claudia, cosa è successo? Non lo so, non lo so, qualcuno, qualcosa mi ha, mi ha, meglio che vada.